Ciao a tutti, io sono Eugenio, sono contento di vedervi su questo canale e oggi parliamo di come recuperare i file da un disco rigido esterno. Ma prima di tutto, che cos'è un disco rigido esterno? Un disco rigido esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che può essere collegato al computer tramite una connessione USB, Firewire oppure ancora wireless. I dischi rigidi esterni hanno di solito una capacità di archiviazione molto elevata e vengono utilizzati per effettuare dei backup, dei file, dal computer appunto a questo dispositivo di archiviazione, oppure fungono da unità di rete. Come vediamo qui esistono diverse marche e diversi tipi di harddisk. Io personalmente ne utilizzo di svariati tipi, per esempio sia Gate, per esempio Toshiba o ancora Samsung. Tuttavia a volte i dati contenuti all'interno di questi dispositivi di archiviazione possono essere persi a causa di un utilizzo errato delle operazioni specificate, per esempio scollegarlo mentre sta scrivendo o leggendo dei dati. Oltre ai file cancellati o persi accidentalmente ci sono almeno 5 altre ragioni per cui i nostri dati si vanno a rovinare e vengono persi. Per esempio il disco potrebbe essere soggetto a un guasto logico o un guasto fisico. Le cause più comuni della perdita dei dati sono la perdita dei dati a causa di un virus o di un malware che si infiltra all'interno del nostro sistema operativo. Alcuni sistemi operativi sono più soggetti a questi attacchi che altri. I file di sistema del disco rigido si corrompono da soli oppure sono stati cancellati e la partizione del nostro disco si è danneggiata. L'interruzione di corrente o una sovrattenzione, quindi ad esempio un temporale che fa avere sbalzi di corrente al nostro hard disk. 4. Gli errori di formattazione, quindi formattare accidentalmente il disco rigido esterno. 5. Il danno fisico derivante da una caduta o da un urto del nostro dispositivo. Come sapete gli hard disk sono meccanici a differenza dell'SSD e quindi risentono maggiormente dei colpi fisici che ricevono. In questi scenari sorge una domanda. Si possono recuperare questi dati? E la risposta è sì, possono essere recuperati. Se i vostri file sono stati eliminati dal vostro hard disk esterno potete recuperare i vostri dati cancellati o rovinati con il programma Recoverit Data Recovery, senza che si renda necessaria la formattazione del vostro disco. Il programma di recupero dell'hard disk esterno può recuperare facilmente i dati presenti all'interno del vostro dispositivo, anche se l'unità è stata danneggiata o formattata accidentalmente. Ora lasciate che vi mostri il processo per recuperare i vostri file. Dopo aver installato il Recoverit sul computer è necessario collegare il disco rigido esterno al pc. Passo 1. Avvia Recoverit, quindi seleziona il dispositivo esterno per iniziare. Passo 2. Il software di recupero del disco rigido inizierà la scansione del dispositivo per cercare i dati persi. La scansione durerà un po'. Passo 3. Dopo la scansione puoi visualizzare in anteprima alcuni file recuperati come foto, video, musica, file di documenti di office. Seleziona i tuoi file facendo il clic sul pulsante Ripristina per salvarli su un dispositivo di archiviazione sicuro. Si aprirà una finestra di dialogo che richiederà la posizione in cui si desidera ripristinare i file. Seleziona la posizione desiderata ma diversa e fai clic su salva. Mentre memorizzate i vostri dati importanti sul vostro disco rigido fate anche un backup o su un altro dispositivo oppure attraverso uno dei servizi di backup online disponibili per tutti gli utenti internet, i cosiddetti cloud. Ne trovate di vari tipi. Ricordatevi che man mano che i vostri dispositivi di archiviazione invecchiano sarà più difficile recuperare i dati una volta che vengono persi o cancellati. Per cui l'unica cosa che dovete fare per evitare di dover eseguire tutti questi passaggi per il ripristino dei file o dei dati è fare spesso dei backup come vi ho detto poco fa. Tuttavia il problema dei dati che vengono persi o rovinati negli hard disk esterni è un problema molto comune e porta con sé diverse problematiche soprattutto in ambito lavorativo quando a volte vengono persi dei dati importantissimi. Quindi fate affidamento a un programma professionale per il recupero e il ripristino dei dati danneggiati come ad esempio Recoverit in modo da poterli recuperare tranquillamente. Ok il video è finito quindi se vi è stato utile lasciate un mi piace qua sotto e se volete scoprire altri prodotti altri strumenti per recuperare i vostri dati allora iscrivetevi a questo canale. Ci vediamo nel prossimo video ciao!